Buongiorno a tutti, bentrovati. Entriamo oggi nel vivo dell'appuntamento del settantesimo anniversario della Fondazione della Società di Studi Romagnoli che abbiamo aperto ieri con i saluti istituzionali parlando di beni culturali, quindi introducendo quello che è uno dei temi fondamentali per quello che riguarda la formazione, lo sviluppo e il potenziamento delle reti regionali e una sessione alla quale abbiamo voluto dedicare particolare spazio data l'importanza e la rilevanza del tema per quello che riguarda la Romagna e data anche l'importanza del tema per quello che riguarda le relazioni, diciamo in qualche modo infrastrutturali dal punto di vista tematico tra l'area vasta Romagna, come si può definire oggi, e quello che è invece tutto il comparto della regione in senso più esteso. Abbiamo qui oggi il piacere di ospitare i referenti anche istituzionali della gestione, della valorizzazione dello studio del patrimonio culturale romagnolo, interpretato nel suo senso più ampio, diacronico, ma anche in qualche modo declinato in quelle che sono le istituzioni che se ne occupano nella maniera più concreta, nella tradizione della Società di Studi Romagnoli che parte proprio dal contatto con le istituzioni che operano sul territorio. Apre l'incontro Roberto Valfani, presidente dell'Istituto Beni Culturali dell'Emilia Romagna, con l'intervento del patrimonio culturale romagnolo, geografia, istituzioni e processi di valorizzazione 2001-2019. Grazie, buongiorno a tutti. Il compito naturalmente sarebbe immane e io in questa fase cercherò di riflettere su alcuni dati raccolti e anche naturalmente su alcune prospettive di analisi che potrebbero essere sviluppate, perché è ovvio che trattare del patrimonio culturale della nostra regione in una prospettiva diacronica è un argomento abbastanza complesso perché come vedremo è vero che la Società di Studi Romagnoli ha rappresentato una continuità nella storia culturale della regione dal 1949 a oggi, è vero anche che le forme dell'organizzazione culturale e anche le stesse strutture delle istituzioni sono enormemente cambiate in questi 70 anni, tanto da apparire sostanzialmente irriconoscibili per una persona che avesse partecipato alla riunione fondativa degli studi a Cesena esattamente 70 anni fa. Basta per rendersene conto prendere un libro che può essere considerato la summa di quella che era la tradizione culturale romagnola nel secondo dopoguerra, che è un libro di Gaetano Gasperoni, bibliotecario di Saduniano del 1955, intitolato Nel solco delle grandi memorie, pubblicato dall'editore Garzanti a Milano, naturalmente Garzanti era forlivese, in sottotitolo Problemi di cultura romagnola e Gasperoni in quel testo, lui era stato uno dei fondatori della rivista Romagna con Alfredo Grilli nel 1904, che si può considerare il primo tentativo di creare una sorta di intellettualità romagnola organica, organica allo spazio regionale, prima praticamente non esisteva, questo processo che dal punto di vista geostorico comincia con Rosetti nel 1894, nel 1904 trova in questa rivista il primo luogo di confronto, la rivista fa convegni, come era allora la stagione, siamo nella stagione delle grandi riviste, la voce di Prezzolini e quindi è una rivista militante, non è una rivista solo di erudizione, fanno convegni, arrivano alla prima guerra mondiale, poi naturalmente le cose si sfilacciano, ritentano dopo la seconda guerra mondiale, ma il tentativo poi alla fine sfuma nella prima parte del fascismo, insomma in qualche modo si perde questa connessione, questa connessione si perde ma Gasperoni diventerà la persona che Augusto Campani cita nel 1949, nella prima riunione degli studi romagnoli, quando deve recuperare il senso della società e dice ma noi da dove veniamo? E dice noi veniamo da quel gruppo di intellettuali là al quale io partecipai perché il giovane Campana aveva partecipato negli anni venti all'ultimissima stagione della Romagna e quindi dal punto di vista anche potremmo così dire biografico c'era questo legame con quella generazione, Gasperoni era ancora vivo e nel 55 fa questa sorta di scrive, questa sorta di testamento spirituale in cui raccoglie non soltanto le figure degli intellettuali romagnoli che avevano diciamo illustrato la regione nel corso del periodo frottocento-novecento ma fa anche un ritratto di quella che è la consistenza delle presenze di bibliotecari, dell'organizzazione degli studi, di chi aveva studiato cosa fondamentalmente, naturalmente i personaggi che conosciamo sono i soliti, naturalmente a parte Pascoli come numeri tutelari di questa generazione, Luigi Orsini, Grilli, Pallardini a Faenza, Santi Muratori, Paolo Mastri a Meldola, Grigioni, Massera Rimini eccetera eccetera quindi diciamo che è un libro interessante perché è la fotografia di un centro intellettuale e lui stesso lo definisce così, dice qual è stato il nostro obiettivo in questi 50 anni? Creare quella che lui chiama un po' enfaticamente, allora si diceva così, l'unità spirituale della regione cioè noi avevamo bisogno, al di là di quelle che erano le partizioni amministrative, geografiche di dare una sorta di unità allo studio della Romagna e ai romagnoli stessi che si sentono una comunità ma che non avevano poi basi concrete di lavoro, di studi che rafforzassero questo sentimento. Bisogna dire che questa impostazione di Casteloni a metà degli anni 50 che risente ancora dell'impostazione precedente è quella che rimane tutto sommato presente dentro le nostre strutture anche della stessa società fino agli anni 80. Quasi tutta la generazione che nasce prima della guerra soprattutto quella che fa la seconda guerra mondiale, che è matura nella seconda guerra mondiale è dissente di questa esigenza, cioè una sorta di associazione di intellettuali locali che attraverso l'ibridazione con alcuni grandi centri accademici costruisce una intellettualità regionale che sia in grado poi di confrontarsi con le amministrazioni che sia in grado di confrontarsi con le casse di risparmio che sia in grado di confrontarsi con l'istruzione, quindi presente nelle scuole presente nei licei eccetera eccetera. Questo impianto molto tradizionale ma anche molto efficace possiamo dire si esaurisce alla fine del novecento si esaurisce biologicamente e si esaurisce anche perché gli strumenti dell'organizzazione culturale ovviamente cambiano radicalmente. La centralità delle biblioteche e degli archivi come luogo di incontro di questi gruppi che come veri e propri cenacoli poi alimentavano la vita delle città si perde. Oggi non esiste praticamente più la frequentazione di questi spazi è lasciata a delle minoranze molto più, come dire, disperse di un tempo. Spesso la vita degli studi romagnoli era appunto questa. Le persone che venivano agli studi romagnoli si incontravano prima negli archivi e nelle biblioteche a parlare delle ricerche che avrebbero presentato agli studi romagnoli, qui ne conosco tanti che hanno fatto questa esperienza. Cioè che quando c'erano le ricerche sapevamo già di che cosa avrebbero parlato i nostri amici perché li avevamo già in qualche modo incrociati nei luoghi che frequentavamo, ciascuno di noi frequentava e questo era un aspetto molto importante perché naturalmente tesseva delle relazioni, questo è decisivo, che andavano al di là del campanilismo romagnolo che era, lo sappiamo, la malattia endemica del nostro territorio e la società era un antidoto contro il campanilismo. C'era un gruppo di persone che si stimava reciprocamente, che aveva delle relazioni permanenti, venisse da Forlì, da Cesena, da Venna, da Rimini erano, diciamo, lo spazio culturale nel quale lavoravano era assolutamente lo stesso e il lavoro che ciascuno faceva era a beneficio di questa identità diversa. Poi c'erano, c'erano anche persone che dal di fuori aiutavano come catalizzatori. È chiaro che in questa stagione del secondo dopoguerra centrale sono le biblioteche, gli archivi, le scuole, gli istituti, i licei soprattutto, molto meno sono i musei perché i musei soprattutto in periferia, al di fuori delle grandi città, avevano conosciuto una stagione, diciamolo pure, di mera sopravvivenza, i musei civici erano cose abbastanza modeste, di solito salvaguardate da eruditi, ma un vero e proprio investimento sugli allestimenti destinato alla fruizione pubblica non c'era. L'uomo che comincia a farlo è Andrea Emilia, è lui che dal suo ruolo bolognese comincia a istillare anche nel nostro territorio l'idea che le mostre possono essere grandi occasioni intellettuali e attorno ad esse ricoagulare anche dei filoni di ricerca. Il più clamoroso, la riscoperta e riapertura del Palazzo Milzetti e la mostra sul Neoclassico nel 1979 che dal punto di vista del successo della mostra e dell'operazione culturale di salvaguarda un patrimonio, possiamo dire, uno dei capolavori di Andrea di quegli anni. Quindi il quadro era molto, da questo punto di vista era abbastanza leggibile. Poi c'è stata una stagione che comincia alla fine degli anni 70, nei primi anni 80 e si conclude anch'essa all'inizio del secolo che è un'altra stagione parallela a questa di cui ho parlato e che potrebbe essere indagata dal punto di vista bibliografico in modo accurato, che è quella delle storie di città. Alla fine degli anni 70, in coincidenza con una stagione fortunata della spesa pubblica locale, stiamo parlando, diciamo, il nostro è un paese che vive, al di là dei governi, di fasi di pendolarismo verso il centro o verso la periferia. I primi 25 anni della Repubblica sono anni di centralismo, cioè lo Stato gestisce in proprio le risorse perché deve rifondare di fatto le basi democratiche dell'Italia e questo avviene fino alla fine degli anni 60, la legge sull'autonomia sulle regioni a statuto ordinario del 1968, del 70 è la prima elezione dei consigli regionali ma non ci sono solo loro, c'è anche tutta l'attività dei consigli comunali che incominciano ad arricchirsi di risorse a partire degli anni 70. Questa seconda stagione dura fra il 1970 dura circa un preimpegno, si esaurisce verso la fine degli anni 90 con l'inizio delle crisi economiche e oggi siamo in un'epoca invece di ricentralizzazione delle funzioni, cioè gli spazi che partenevano agli enti locali anche di tipo finanziario e lo vediamo bene nelle funzioni culturali cominciano a essere in qualche modo ripresi dal centro perché? Perché in una condizione di minore di controllo della spesa pubblica evidentemente questo pendolo ritorna verso un altro polo. Ma quegli anni là, potremmo chiamarla una golden age, furono anni brillanti perché le risorse c'erano davvero, vi do solo questo dato, in lire correnti la spesa dei comuni passa tra il 71 e il 91 da 2,8 a 48 miliardi ma naturalmente c'è la svalutazione nel mezzo, se diciamo togliamo la svalutazione c'è un passaggio da 26,5 a 48 miliardi nell'arco di un ventennio. Le regioni ancora di più diciamo, quindi è un considerevole aumento e chiaramente c'è un supporto anche all'attività culturale che di conseguenza si sviluppa e in particolare prende la forma delle storie delle città. Questo è una cosa visibilissima a Cesena dove il progetto della storia di Cesena potremmo dire è quello più mastodontico, quello che ha preso in assoluto anno, cominciato da Piaggio, tra di Maraldi, governato da lui, dalla cassa di risparmio e rimane diciamo in qualche modo forse il progetto più ambizioso sia in termini di tempo che ha richiesto sia in termini di massa di lavoro che ha sviluppato ma c'è Ravenna, c'è Forlì, c'è Rimini, ce ne sono praticamente tutte le città romagnole vivono questa stagione. Questa stagione di costruzione delle storie di città che prima non era sentita, attenzione, che noi non abbiamo quasi delle storie urbane organizzate salvo qualche caso che spesso erano un po' più che le cronologie ma avere proprie storie dello spazio urbano che viene percepito come un luogo identitario in un'età neomunicipalistica che è quella tipica dell'ultimo terzo del Novecento è una novità diciamo abbastanza tipica del nostro territorio che essendo di radice municipalistica poi vedeva in questa competizione un modo anche per confrontarsi reciprocamente naturalmente e bisogna dire che questa operazione vede la coagulazione di studiosi quindi diciamo che il bacino degli studi romagnoli in gran parte viene poi messo a disposizione di queste storie che per il mondo accademico sono a volte preziosissime per far crescere i propri allievi. Quello che ci riesce meglio è sicuramente Giancarlo Susi e con la storia romana ha organizzato, riorganizzato interamente un settore in maniera molto più organica di quanto non abbiano fatto gli altri studiosi delle altre fasi e delle altre discipline e prende questa stagione, comple tutti gli anni 80, comincia alla fine degli anni 70, prende tutti gli anni 80 e tutti gli anni 90. Si inserisce anche in una stagione politica che è quella in qualche modo di reazione a una visione di regione che era quella propria negli anni 70 che tendeva viceversa a far emergere il primato della pianificazione e della programmazione, anche giustamente perché questa era effettivamente la funzione della regione, a danno in qualche modo degli enti locali che si vedevano stretti da questa griglia interpretativa regionale più ampia, era quella nella quale preveva per esempio Lucio Gambi sicuramente quando aveva fondato l'Istituto dei beni culturali, questa prospettiva declina alla fine degli anni 70, dal punto di vista politico è già sconfitta con la fine della presidenza di Guido Fanti alla guida della regione nel 1976 che è quella più illuministica nella storia della regione e poi torna invece prepotente il neomunicipalismo con il quale la regione comincia a dialogare, è la cosiddetta età del policentrismo che è stata poi in qualche modo lenta dal punto di vista di organizzazione amministrativa sotto il nome di policentrismo. In questa stagione policentrica le storie delle città sono diventate uno strumento anche di promozione municipale sicuramente e hanno attratto un sacco di risorse, spesso risorse comunali affiancate da quello delle casse di risparmio che erano gli altri centri, chiamiamoli così polmoni del potere finanziario locale che anche per ragioni politiche erano molto affini perché sapete che i nomi delle persone che le amministravano erano poi governate dal tesoro e c'era un filtro che era assolutamente governativo che rendeva queste strutture in qualche modo omogenee ai gruppi politici o comunque in qualche modo diciamo in relazione con i gruppi politici locali. questa stagione qui è finita, finisce alla fine degli anni 90 per due motivi, primo il ritorno al centro delle risorse i comuni hanno sempre meno risorse da spendere in queste iniziative, devono spendere di più nelle istituzioni poi adesso vedremo quali e dall'altra parte perché c'è un'enorme trasformazione degli istituti di credito locale perché la nascita delle fondazioni interrompe questa omogeneità e fa emergere realtà che sono completamente diverse la geografia delle fondazioni bancarie oggi è completamente diversa da quella della fine del XX secolo oggi di fatto esistono in Romagna solo tre fondazioni bancarie in grado di erogare davvero che sono quella di Forlì, quella di Ravenna e in parte quella di Imola e tutto il resto è stato praticamente spazzato via dalla trasformazione del mercato finanziario 20 anni fa ogni cassa di risparmio, lo sappiamo bene, anche prima che ci fossero le fondazioni aveva risorse da destinare alla cultura, alla promozione eccetera eccetera del territorio quindi questo è un cambiamento direi sostanziale per quello che riguarda la vita del patrimonio culturale anche dei nostri territori. Detto ciò, un unico tentativo è stato fatto per provare a leggere quello che accadeva in Romagna dal punto di vista proprio del sentire comune la cosa più curiosa è che noi non abbiamo per gli anni recenti studi complessivi della trasformazione culturale e sociale del nostro territorio, quindi ringrazio molto gli studi romagnoli e Alessia nella figura del suo presidente perché secondo me questa è un'esigenza assoluta noi conosciamo perfettamente la Romagna nel 1910, molti dei presenti saprebbero stare benissimo dentro quella Romagna conoscerebbero le persone e le case dove abitavano e conoscono molto meno i processi che da 40 anni hanno cambiato il volto di questa regione. Primi, tentativi di lettura collettiva pochissimi, quasi tutti gli studi sono studi di carattere circondariale o locale, prevalentemente di natura economica, quasi mai di natura culturale e sociale. Io ricordo perché è qui presente la professoressa Poma che alla fondazione di Forlì facciamo forse uno dei pochi che per quanto mi riguarda mi sembra unico tentativo che fu quello di commissionare uno studio all'istituto Cattaneo del Mulino, proprio all'inizio degli anni Due Vida, proprio intitolato, dedicato alla percezione della Romagna da parte degli stessi romagnoli da un punto di vista sociale e culturale, era intitolato No di Re di Ponti, la Romagna è il capitale sociale, che era l'unico studio in cui fossero messe in comparazione le province, le tre province, quindi non era fatto per Forlì, era fatto per tutta la regione e naturalmente gli indicatori non erano quelli di carattere culturale, diciamo, fine come potrebbero interessare a noi, erano in più largo spettro. Veniva fuori che, tanto per dirne una, ma lo sappiamo già, che il difetto principale dei romagnoli è il campanilismo, per il 23%, la seconda cosa è una tendenziale anarchia, cioè ognuno fa di testa sua, ma questo probabilmente è valido anche per altre regioni, e poi un elemento tipo la scarsa cultura, la chiusura mentale, eccetera, eccetera, fra gli aspetti dei pregi risultava prevalente la cucina, naturalmente, l'attaccamento alla famiglia, ancora, la voglia di lavorare mi sembra un po' troppo, però anche quella era, diciamo, considerata un elemento qualificante. Fra quelli che erano gli oggetti, personaggi, luoghi che rappresentano maggiormente la Romagna, il marafone era al 26% insieme col passatore e la caveglia, mentre invece era già in caduta libera il ballo liscio e anche la piadina con Sangiovese che evidentemente funziona molto più per gli altri che non per noi. Quindi sto dicendo cose che sono sciocchezze, ma diciamo che sarebbe interessante rifare a distanza di vent'anni quella ricerca per capire che cosa verrebbe fuori oggi, perché credo ci sarebbero delle sorprese interessanti a questo proposito. Detto ciò, quello su cui volevo invece rapidamente soffermarvi, dopo questa piccola disannina di quello che è un mondo sul quale ancora comunque non abbiamo lavori sistematici, è quello come potremmo noi oggi fare una analisi del patrimonio, che senso, come potremmo farla, come mi sono posto il problema, che cosa avrebbe senso censire davvero? Avrebbe senso censire gli accessi alle biblioteche o ai prestiti librari? Abbiamo i dati naturalmente, li abbiamo, le raccoti come i BC, ci sono le dati ISTAT, quindi non è che ci manchino, ma mi chiedo, ha significato questo oggi per misurare una partecipazione culturale? Gli archivi cartacei sono maggiormente sempre più battuti, più che da studiosi, da eruditi locali, di appassionati, pochissimi anche di studenti che riusciamo a mandare, quindi la vitalità del nostro patrimonio che una volta era la base, se vogliamo, di questo mondo di intellettuali che si ritrovava, biblioteche e archivi, oggi è disertata, quindi questo elemento forse non sarebbe più così significativo. I numeri dei musei, non c'è dubbio che l'altro aspetto che coincide con il declino di questo vecchio modo di fare cultura a livello locale è il decollo delle strutture museali come luogo di aggregazione e anche di spesa per i comuni e non solo per i comuni e in questo caso naturalmente noi abbiamo indicatori di carattere quantitativo e cioè i visitatori, i peglietti staccati, che però sappiamo sono indicatori che hanno un significato relativo, perché? Perché bisogna vedere quanti soldi si spendono per fare una mostra, perché è evidente che se io spendo 2 milioni di euro per fare una mostra con una pubblicità nazionale, non gioco la stessa partita che gioca una realtà locale che può spenderne 20 mila. Quindi è chiaro che è un indicatore di quelle che sono le città che puntano sul museo come luogo attrattivo ma non sono di per sé un indicatore di vitalità reale del patrimonio. Potremmo dire un uso del patrimonio, questo sì. Sotto questo profilo sicuramente Ravenna, ma questo lo è sempre stato, sicuramente Forlì ed è una novità col San Domenico a partire dall'inizio del nuovo secolo, sicuramente Rimini che oggi possiamo dire è la città che più organicamente sta investendo in una rilettura del proprio centro storico, pensiamo al Cinema Fulgor, la risistemazione dei musei civici e al Castel Sismondo come luogo del Museo Fellini. Quello è un'area che ha grosso modo 100 metri di diametro sul quale in questo momento si stanno concentrando una pioggia di milioni di euro che vengono sia dallo Stato sia dal Comune. Quello diciamo fra i comuni maggiori della Romagna in questo momento è il luogo dove dal punto di vista dell'investimento c'è una maggiore intensità. Se a questo corrisponde una vitalità reale del tessuto culturale ruminese non lo so. La risposta è io non lo so, cioè non so dire fino a che punto questo si avrà ricadute sul tessuto. In questo momento possiamo dire che c'è una sorta di cantiere aperto energivoro, cioè dove le risorse stanno arrivando. Quindi dobbiamo avere questa attenzione nel giudicare questi fenomeni altrimenti li mettiamo tutti nello stesso contenitore, cioè quello del patrimonio culturale in senso indistinto. Delle fondazioni bancarie e della loro minore presenza abbiamo già detto. C'è poi la questione delle università che so che è stata trattata ieri e sotto questo profilo io direi anche qui è vero che senza la presenza universitaria le nostre città avrebbero sicuramente subito un degrado assolutamente diciamo molto forte perché l'università oggi è comunque un luogo di socializzazione dei giovani, dei ragazzi, di partecipazione, di formazione io direi terziaria più che universitaria molto spinta. Che cosa abbiano lasciato sul territorio e dove si siano realmente create delle esompositive non dovunque e non in tutte le discipline, i corsi di laurea sicuramente non in tutti e lì bisognerebbe vedere caso per caso dove questi rapporti si sono creati e dove non si sono creati. Quali sono state le relazioni positive e quali invece si sono state le relazioni che hanno semplicemente determinato la costruzione di un centro di insegnamento senza esiti pratici per il territorio. Diciamolo pure che il territorio dal punto di vista amministrativo tende a tenere l'università a distanza perché le elite amministrative locali sono dei corifeuli e quindi l'arrivo di soggetti diciamo culturalmente attrezzati normalmente non viene retto positivamente da nessun partito, non sto facendo una visione, una lettura di tipo politico. Quindi è chiaro che questa relazione è circoscritta a volte appena e a volte no. Dopodiché, ma questo si potrebbe fare anche come indicatore cioè capire quanti professori universitari hanno partecipato alle istituzioni pubbliche della Romagna dal 1990 al 2020, quindi già lì si potrebbe fare un quadro di quella che è la relazione dal punto di vista della partecipazione alle istituzioni. Dopodiché, detto questo, quindi io ho alcuni dati quantitativi e qualitativi certamente, vi posso presentare per esempio i finanziamenti dell'IPC fatti sulla legge 18 che è quella che finanzia le istituzioni museali, prendo questa come elemento, diciamo sulla scala romagnola il piano del 2018, l'ultimo che si è, diciamo, che è stato varato e che vede sicuramente cosa indica questo piano. Siccome le domande vengono fatte dai comuni, prima di tutto i comuni che hanno una maggiore abitudine a chiedere, indipendentemente dal patrimonio, ci sono comuni che non hanno magari dipendenti funzionali, dirigenti, abituati a rispondere alle call, per cui quelli non avranno niente, anche se hanno patrimonio e altri invece che sono più strutturati e quindi è chiaro che non è una lettura, diciamo, esaustiva è una lettura semplicemente dell'incontro fra una domanda che viene qualificata dal Comune e dall'altra parte la regione. Da questo punto di vista direi che, diciamo, i centri toccati sono moltissimi, sicuramente il Parco da Imola, il Palazzo Tozzoni, nell'Alia Forlivese i musei civici, il Museo Mambrini di Caleata la Galleria d'Arte Moderna di Santa Sofia, la Chiesa dei Servi di Forlimpopoli, il Museo archeologico di Cesena il Museo della Marineria di Cesenatico, la Casa Pascoli a San Mauro, il Museo del Compito a Savignano la Casa Panzini a Bellario, il Museo delle Capuccine e l'Ecomuseo di Bagnacavallo, il Castello di Bagnara il Museo del Sale di Cervi, il Museo Civico di Fusignano, la Casa Rossini di Lugo, il Museo della Frutticultura di Massa Lombarda, il Mar di Ravenna, la Casa Guerrini di Ravenna, il Museo della Città di Rimini i Musei Comunali di Rimini, i Musei Comunali di Sant'Arcangelo, la Fortezza di San Leo, il Museo archeologico di Verucchio il Museo Sapignoli di Torriano e ci sono anche alcune, diciamo, tentativi di collegare vari luoghi, questo è molto raro ma succede in Romagna, le case museo dei poeti degli scrittori per esempio, è un tentativo che fino adesso ha, diciamo, abbastanza funzionato, i musei dell'entroterra riminese con Sant'Arcangelo Capofila e il Museo del Paesaggio diffuso dell'Unione della Romagna-Fantina che bisogna dire è una delle più dinamiche, diciamo l'Unione di Faenza avendo interiorizzato, internalizzato anche il servizio culturale, cosa che non hanno fatto le altre unioni in Romagna, è quella che si sta ponendo in una chiave di, diciamo, lettura del patrimonio della cultura più coerente in questo momento. Si tratta di un'unione non molto grande ma dal punto di vista delle politiche culturali un po' più evoluta di quello che si legge altrove. Dopodiché naturalmente non c'è solo quello, abbiamo anche le fondazioni che in qualche modo sono collegate alla regione, il museo di classe naturalmente, il MIC di Faenza che è un altro grande polmone, la Casa Oriana, la fondazione Tito Balestra di Longiano che sono i principali privati che hanno anche funzioni pubbliche molto forti. I soldi che la regione sta investendo in questo momento in progetti speciali più rilevanti sono ovviamente tante per il quale ha studiato un milione e mezzo di euro che sono destinati al comune di Ravenna e Fellini che naturalmente vede quegli interventi che sono oggi visibili sul Fulgor e sul Castel Sismondo. Naturalmente questo che cosa dice? Sicuramente che in questo momento l'Ibc sostiene questa pluralità di soggetti, noi non abbiamo una lettura fine di questi processi a priori, cioè non sappiamo esattamente se poi queste risorse abbiano realmente una funzione di sostegno dei musei, questo va bene naturalmente, ma non sappiamo fino a che punto siano paradigmatiche, funzionali a una politica di comunità. Questo noi non lo sappiamo, non abbiamo un strumento, non abbiamo un indicatore e questo è un grave problema per una struttura che deve fare adottare delle policies a livello regionale perché? Perché è chiaro che i musei sono tutti delle monadi che cercano di sopravvivere, cioè sono dei, come dire, dei piccoli animaletti che stanno in un contesto ostile e ognuno cerca di prendere risorse per poter sopravvivere, questo è il suo destino, cioè non è che si pone il problema del perché. Quando un'istituzione esiste, era quella che Pareto chiamava in sociologia la persistenza degli aggregati, quando esistono delle istituzioni queste in ogni modo sono come gli organismi biologici, cercano di sopravvivere, non si pongono il problema del loro senso, il senso glielo devono dare gli altri, le altre istituzioni devono dire ha senso che tu esista oppure no, ma qui non c'è nessuno che lo dica, cioè una volta che si costituiscono questi organismi poi cercano di sopravvivere. Noi avremmo bisogno, questo spero che riuscirà a farlo anche l'Ibc con adesso la lettura del sistema museale regionale, di capire che cosa sta funzionando di questo mondo, cioè quanto di queste risorse sono realmente stanziate per la sopravvivenza mera di organismi che pure debbono esistere sotto forma di tutela e di conservazione dei beni, siamo tutti d'accordo, ma non è detto che debbono esistere sotto il profilo dell'istituzione museale con tutti i crismi perché sotto quel profilo, ahimè, le risorse non è detto che vi siano naturalmente e quindi questa è una lettura che nel caso romagnolo, come avete visto, sarebbe interessante perché la quantità dei soggetti è molto vasta, ma io non saprei dare un valore a questi soldi, cioè non saprei dare un valore reale al tipo di investimento, al feedback, questo dipende anche però dalla spesa pubblica in generale in questo paese, perché il problema del feedback non ce lo poniamo quasi mai, chi è stato amministratore lo sa, il momento più importante per un amministratore è quando si decide la spesa, perché? Perché lì si costruisce la clientela politica, è lì che si costruisce la relazione positiva con quello che riceve il denaro, poi se questo denaro è stato speso bene, male, se te l'hanno chiesto per cose giuste o per delle cose che non avevano senso, tu che gliel'hai dato questo problema, non tutto, e questo è gravissimo perché ovviamente in una condizione come l'attuale di risorse decrescenti, in particolare nel settore culturale, questo è il rischio di dare, irrorare i territori di risorse date malamente molto alto, come sappiamo, e non ce lo potremmo permettere. Dovrebbe essere dal basso però questa una richiesta, attenzione, come comunità. Adesso vorrei però concludere chiedendomi, va bene, allora poniamo che riusciamo a costruire degli indicatori qualitativi, che mi sembra la cosa più importante per capire esattamente cosa sta succedendo in Romagna sul patrimonio, poniamo che riusciamo anche a dare una dimensione della partecipazione anche qui quantitativa, cioè capendo esattamente cosa fa l'università, cosa sta facendo, cosa non sta facendo, quali sono le relazioni col tessuto locale. Nonostante tutto ciò io sentirei il bisogno di avere, e adesso ho provato a farlo, un ritorno alla tradizionale, vecchia biografia, cioè alla biografia, una biografia aggiornata di quelli che sono stati dentro questi percorsi più recenti, così come se ne era posto il vecchio Gasperoni. Ci sono biografie esemplari, cioè che riescono a leggere questo passaggio. Sì, certamente, prendiamo quella di Viaggio, la di Marandi, è una biografia che prende funzioni pubbliche, scuola, casse degli sparmi, istituzioni culturali, le mette tutte insieme, le tiene. È una biografia di questa figura tipica della fine del Novecento e dell'inizio del Duemila, quando ancora queste cose potevano essere tenute da figure uniche dentro la città, che erano in grado di fare questo lavoro di aggregazione. Un'altra figura che ha questa visione relazionale, a me interessa questo, studiare le relazioni, non mi interessano le biografie in quanto tale, ma studiare gli individui che sviluppano relazioni. Un'altra figura originale, Ravenna, Walter della Monica, un individuo che costruisce con i trebi poetici una partecipazione culturale diffusa e poi dietro questa fonda delle vere e proprie strutture di partecipazione, che hanno una loro vicenda, che poi finiscono, ma che individuano anch'esse una quota di storia del paesaggio culturale romagnolo fra l'ultimo terzo del Novecento e i primi anni del Duemila. Ecco, io credo che anche uno studio di questo tipo sarebbe utile per capire le relazioni come sono state sviluppate, abbiamo presente che molti di questi sono stati amministratori, consiglieri degli studi romagnoli, o comunque hanno avuto a che fare molto con questa associazione. Questo sarebbe interessante per capire questa generazione, averla sott'occhio, perché ho paura che al di là della nostra memoria, che è soggetta a un oblio rapidissimo, diciamo, non sono ricordi. Questi territori li stiano dimenticando e invece è sbagliato perché queste persone hanno tenuto insieme le relazioni in un momento anche positivo, sicuramente, ho detto dal punto di vista economico, per lo sviluppo della cultura a livello comunale che poi, diciamo, a un certo punto è finito. E quindi quello, secondo me, lo dovremmo portare a casa come memoria acquisita della Romagna. E su questa poi, in maniera, diciamo, più moderna, se vogliamo, attuale, vedere quello che è il pensiero delle istituzioni. Perché le istituzioni pensano, come ci ha insegnato una grande antropologa britannica, Matt Douglas, e non è detto che pensino sempre bene. Grazie. 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 Grazie.